Buongiorno 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 Questo Foray With E D S D D Grazie. In nome della Sv. Dorolačka Guardia, voglio dire due parole. Ci sono stati preparati per il vostro posto, per il vostro posto, per il nostro grande ognio, per il vostro figlio, per il vostro territorio, per il vostro territorio e per il nostro vero. Grazie, Presidente. Grazie, Presidente. Grazie a tutti. Grazie a tutti. più città che sono in gioco. Un impeccante è che in questo modo è che in quanto riguarda il mondo del muslimo della Federazione e della Repubblica Srpsca, nostra delegazione deve iniziare a lavorare a do questo procedimento più più tradizionali storici e etnici e srpsi e che per l'opportunità della Repubblica di Srebsca dovremmo fare un'evoluzione che il progetto dell'interno della Repubblica di Srebsca.